Era considerato uno dei volti pubblici dell'Andrangheta in Emilia, imprenditore di successo, faceva da chiave per introdurre sodali negli ambienti dell'economia e delle istituzioni. Nei confronti di Giuseppe Iacuinta, 65 anni, padre di Vincenzo, ex calciatore campione del mondo nel 2006, la Direzione Investigativa Antimafia ha eseguito un decreto di sequestro di patrimonio di oltre 10 milioni di euro emesso dalla sezione Misure di Prevenzione del Tribunale di Bologna. Giuseppe Iacuinta, attualmente detenuto a Voghera, era stato raggiunto in ordinanza di custodia cautelare in carcere nel gennaio del 2015, nell'ambito della Maxi Operazione Emilia, poi condannato nel 2018 dal Tribunale di Reggio Emilia a 19 anni di reclusione, pena successivamente rideterminata in appello a 13 anni per i reati di associazione mafiosa e detenzione illegale di armi e munizioni. Anche il figlio è stato coinvolto nello stesso processo per reati di armi. Per lui la condanna, confermata in appello, è stata di due anni con la sospensione condizionale e senza l'aggravante mafiosa. Per entrambi deve ancora tenersi il processo davanti alla Corte di Cassazione. Il ruolo significativo di Iacuinta Senior nell'associazione andranghetistica emiliana, Cosca Autonoma, legata ai grandi aracri di Cutro, paese di origine dell'imprenditore, è stato accertato dalle indagie della DIA, prima e dalle sentenze poi. Il Tribunale lo colloca a un livello immediatamente subordinato a quello dei promotori e agli organizzatori della Cosca. Faceva da mediatore, partecipava a riunioni in cui venivano delineate le strategie imprenditoriali dell'associazione, aveva un'attività operativa nelle false fatturazioni e avrebbe beneficiato del concorso degli associati in una situazione di emergenza nell'ottica della reciproca mutualità. Gli accertamenti della DIA hanno inoltre evidenziato una netta sproporzione tra i redditi dichiarati e il patrimonio accumulato. Il provvenimento di sequestro firmato dal giudice Andrea Salvatore Romito, componente del collegio presieduto da Domenico Pasquariello, ha riguardato due società operanti nel settore dell'edilizia, 71 immobili ubicate nelle province di Reggio Emilia, Brescia e Crotone naturalmente, e poi due autovetture e numerosi rapporti bancari per un valore complessivo di oltre 10 milioni di euro.